All'entrada del temps clare, per gioiare e comensare, e per gelo si irritare, vol la regina a mostrare che le siamo rosa, alla via, alla via. Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale, oggi presentiamo un bellissimo romanzo storico appena pubblicato da Mondadori dal titolo Carolus, il romanzo di Carlo Magno, di Francoforte, che abbiamo il grande piacere di avere il nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci racconti di questo romanzo. Prego, Carlo, a te. Ciao, 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 grazie, grazie. Allora, vabbè, questo è un libro a cui io tengo tantissimo perché era da quasi dieci anni che, insomma, raccoglievo materiale, che lo studiavo, che cercavo di avere il quadro completo di situazione. Non è facilissimo perché ci sono, certo, notizie su Carlo Magno, abbiamo, voglio dire, dei documenti importantissimi come Vita Caroli di Eginardo, dove ci racconta in presa diretta quello che era Carlo Magno, però, come sempre, quando si scrive un romanzo storico, poi bisogna, in realtà, mettere insieme non solo le date, gli eventi, gli avvenimenti, ma bisogna ricostruire quello che facevano gli esseri umani, le persone in quel momento, cosa pensavano, di cosa parlavano, di cosa discutevano, come si confrontavano, che decisioni prendevano. Quindi, quello che fa il romanziere è cercare un po' di chiudere i buchi lasciati vuoti dalla storia, cercando di riempirli con quelli che erano, poi, alla fine, i rapporti tra esseri umani e le emozioni che si scambiavano agli esseri umani. Questo fa il romanziere di romanzi storici. Per poterlo fare, però, bisogna, come sempre, lavorare per ottenere il massimo possibile di tutto ciò che io posso ricostruire da quella che è la documentazione storica, dal lavoro fondamentale degli storici, degli archeologi prima, degli storici poi, di tutti coloro che le fonti le esaminano e le commentano. Mi dicevo, sono voluti dieci anni per poter lavorare bene, fino ad arrivare a un punto da dire, ok, adesso direi che ho il materiale che mi serve per cominciare a scrivere questo libro. E poi è stata una cavalcata, devo dire, molto divertente, perché è un viaggio nell'alto medioevo molto interessante, molto divertente. È inedito perché io stesso non avevo questa conoscenza del personaggio Carlo Magno e degli eventi che gli stanno intorno così profonda come quella che invece, secondo me, è importante e necessario che ci sia. Perché è un personaggio di una modernità incredibile. Un personaggio che, nonostante siano passati ormai dall'Ottocento al 2023, quanti anni sono? 1200 anni, insomma, 1200 anni sono tanti. Eppure, quello che ho potuto verificare è che è un personaggio modernissimo sotto molti aspetti. Dal fatto che è stato il primo, diciamo, a mettere insieme un'Europa unita, più o meno come la conosciamo oggi. A parte la Spagna, che era ancora sotto dominio arabo, il resto dell'Italia, dell'Europa unita, è quella che conosciamo oggi. Aveva i confini dove premevano i confini, quella che allora si chiamava la Pannonia, che oggi è tutta la zona dall'Ucraina, arriva su fino alla Russia. C'erano delle guerre, c'erano delle istanze per entrare in Europa, che lui ha fermato e ha arginato. Quindi c'erano dei movimenti di storia, i primi passi, i primi mattoni della storia contemporanea dell'Europa unita che conosciamo noi oggi, che sono veramente incredibilmente attuali, perché da lì nasce tutto. L'Europa come la conosciamo anche a livello culturale, a livello linguistico, a livello sociale, a livello amministrativo, è tutto in quel momento che nasce, comincia a costruirsi, cominciano a porsi le basi, i mattoni, per tutto quello che accadrà dopo. È un periodo davvero importante e fondamentale. Però io ovviamente mi sono divertito, come dicevo, non solo a raccontare questi macroeventi che riguardano la storia, che riguardano poi, come dire, gli sviluppi da un po' da tutti i punti di vista, da quello militare, quello amministrativo, quello sociale, a quello culturale, con la creazione a parte di Carlo Magno della grande scuola palatina, che era uno dei primi momenti aggregativi, culturali dell'Europa, di cui si sappia. C'era poi tutta la parte legata ai loro, ai personaggi, alle loro pulsioni, alle loro emozioni, a quello che hanno passato. Questo è un uomo che è arrivato a vivere fino a 71 anni, che per l'epoca era veramente un'età piuttosto avanzata. Ha avuto cinque mogli, ha avuto un numero di amanti, di concubini enormi, ha avuto sorelle, fratelli, figli, e alla fine sono morti tutti durante la sua vita e ne sono rimasti solamente in vita due, uno legittimo e una illegittima, due soli figli su tutta la sua stirpe, insomma, e ha vissuto quindi in maniera anche piuttosto drammatica questi anni della sua vita. Io ho voluto ricostruire tutto questo da ragazzino fino a quando arriva il suo ultimo giorno, il suo ultimo respiro, e per ricostruirlo ho avuto bisogno prima di, come dire, mettere insieme tutto l'apparato, tutto lo scenario, tutto ciò che gli stava intorno e poi ho cercato di approfondire in una maniera più coerente, plausibile, possibile, con quelli che erano i lasciati storici, quello che era l'uomo Carlo Magno, quello che era il personaggio Carlo Magno, quello che era il personaggio che interagiva con tutti coloro che gli stavano intorno. Deve essere stato un bel lavoro, un decessimo, quasi un anno a secolo. Eh sì, esatto, cioè è stato complicato, è stato complicato. Molto divertente però, perché poi affondare in quei meandri, in quel momento, in scoprire tutte le cose che ho scoperto, veramente da tutti i punti di vista, il libro è pieno di scoperte che io ho fatto, che non immaginavo neanche, non sapevo bene che fossero da collegarsi in quel momento, invece mi ha spalancato le porte su tantissime cose interessantissime. Io, per esempio, una delle cose che mi ha sempre incuriosito del personaggio è il desiderio di unificare la lingua, la scrittura, soprattutto con la Carolina, no? Che è il primo, che poi è praticamente il corsivo che usiamo ancora oggi noi. Questo è un indicativo di una volontà. Sì, esatto, indicativo del suo desiderio di unire i popoli, anche perché fossero perfettamente comprensivi. Lui sapeva benissimo che era complicato parlarsi. C'era un crogiolo di lingue veramente impressionante all'epoca. Lui stesso cercava di studiare il latino perché era la lingua colta che univa un pochino tutti perché comunque i monaci erano coloro che erano dispensati di scrivere, di annotare, di fare gli annali. Gli annales erano annotati dai monaci, monaci o monaci laici che fossero, ma insomma erano sempre di quell'estrazione. E lui quindi cercava lui stesso di imparare il latino con scarsi risultati, devo dire, perché le testimonianze sono che non è che fosse molto bravo a parlare il latino. Però poi cercava di dare vita a una lingua che fosse una lingua poi di derivazione franca, ma insomma miscelata con l'allemanno, con il germanico, miscelata con tante lingue diverse. La scuola palatina che crea da Chris Grana è quel momento fondamentale, perché lui riunisce lì filosofi, matematici, pensatori, studiosi, proprio per cercare di mettere insieme, fare un ensemble di persone che fossero in grado, guidati dal famoso alcuno da York, che fossero in grado poi di portare quella comunità che stava cercando di mettere insieme in un'unità anche linguistica, linguistica, ma mi viene da dire culturale a 360 gradi, per cui è stato un impegno imponente da questo punto di vista, poi secondo me non pienamente portato a termine, perché è stato l'inizio del processo, perché lui stesso aveva grosse difficoltà poi a gestirlo, quindi è stato un po' l'inizio del processo, però è stato l'uomo che ha avuto la visione per dire bisogna cercare di arrivare a un'unità di questo tipo, e sicuramente è stato molto bravo ad avere quella visione, ad andare oltre quello che erano come dire, la mentalità chiusa del re che cerca di mantenere il suo piccolo regno e poi dopo lascia lontani tutti gli altri, e lui ha cercato di farlo in maniera molto forte, devo dire. È una figura davvero imponente. Sì, fisica, da un punto di vista fisico e da un punto di vista come dire, anche culturale, mentale, di tutti i tipi. Il mio libro ci sono 270 pagine, cioè 730 pagine dove io ho dovuto limitarmi perché altrimenti ho dovuto scrivere un libro di 2000 pagine perché veramente questo personaggio ne inventava sempre qualcuna, no? Ma da qualsiasi parte ci giriamo, qualsiasi lato possiamo vedere la vita di un uomo, quindi ripeto, quella personale per esempio nei rapporti con le donne era all'avanguardia da questo punto di vista perché io non ho mai trovato, io ho scritto tanti romanzi storici di tanti personaggi importanti della storia. Non mi era mai capitato, mai davvero, studiando le fonti, quindi ascoltando le voci del passato da coloro che erano più o meno più o meno diciamo negli anni di Carlo Magno, perché Eginardo era contemporaneo a lui per cui abbiamo una testimonianza addirittura passo passo di parte della sua vita, ma poi anche altri commentatori anche altri che ne hanno scritto erano più o meno contemporaneo poco dopo e quindi l'hanno conosciuto di persona. Ebbene, io in questi documenti rilasciati non mi era mai accaduto di trovare tutte queste indicazioni su quanto fosse diverso nei rapporti con le donne perché aveva ed erano ed io mi rendo conto che queste annotazioni che venivano fatte erano sempre un po' sorprese non proprio capaci di comprendere fino in fondo non si spiegavano come mai Carlo Magno avesse tutta questa fiducia e tutto questo enorme rispetto nei confronti delle donne con cui si confrontava a partire da sua madre per andare alle mogli per andare alle amanti per andare alle figlie per andare alle sorelle lui aveva come confidenti principali le sue donne se aveva un problema amministrativo politico persino militare le annotazioni riportano in maniera ripeto un po' sorpresa che lui per prima cosa non andava dai suoi funzionari non andava dai suoi generali non andava dai suoi uomini di governo o di amministrazione ma andava dalle sue donne si consultava ne parlava recepiva alcune indicazioni e poi prendeva delle decisioni e quindi l'idea è che lui avesse bisogno in realtà di maturare lui le decisioni su qualsiasi aspetto della sua vita e del suo regno però per farlo aveva bisogno di un confronto un confronto aperto intimo e per poterlo fare andava dalle persone con cui era più in contatto intimo e quindi andava dalle e con cui si sentiva più a suo agio e andava dalle sue donne sua sorella Giselle è stata per moltissimi anni un pilastro della sua formazione e del suo desiderio di capire le cose le mogli sono state importantissime grazie a una moglie a fa strada che costruisce finalmente la grande reggia da cui sgrana di cui aveva bisogno il regno perché prima i franchi e i merovingi che precedevano avevano tanti piccoli castelli disseminati in giro dove trascurrevano qualche mese qui qualche mese là per andare a caccia in attesa che arrivasse la stagione estiva per provarsi a qualche battaglia perché l'epoca prescriveva praticamente che ogni estate si andasse a combattere da qualche parte poi d'inverno si tornava a casa ma dove si andava in tanti castelli sparsi per tutta quella che oggi è la Francia la Germania si andava a cacciare in questi castelli lui finalmente decide di dare una reggia come si deve a un imperatore lo fa ad acquisgrana ma lo fa dietro consiglio dietro spunto dietro il lavoro di sua moglie fa strada con cui ha avuto un'intesa anche abbastanza contrastata però insomma che gli ha dato la possibilità poi di costruire anche il palazzo di acquisgrana la cattedrale la famosa cattedrale di acquisgrana con base ottagonale che ancora oggi è insomma molto importante molto cerata e che va vista ecco insomma dal punto di vista militare ha fatto delle innovazioni incredibili perché la cosiddetta cavalleria pesante quella che ha con le corazze di cuoio di protezione dei cavalli che però dopo l'impeto d'assalto le corazze venivano staccate per poter consentire ai cavalieri di muoversi con piaggio e combattere è una invenzione tutta di Carlo Magno del suo esercito l'inserimento delle staffe all'interno dell'esercito franco dopo aver visto che gli avari lo facevano utilizzavano queste strisce di stoffa per mantenere i piedi e poter tirare con l'arco beh l'introduzione delle staffe avviene grazie nell'esercito avviene grazie a Carlo Magno tutta l'idea della cavalleria che sarà poi successiva con le chansons de geste dopo e che verrà poi a diventare il grande fenomeno della cavalleria nasce tutto da lì nasce tutto dall'idea di Carlo Magno di mettere insieme un esercito possente basato sulla cavalleria e il cavaliere da soldato ausiliario come era prima nell'esercito romano dove erano una piccola parte rispetto alle legioni poi diventa pian piano l'elemento cardine dell'esercito il punto importante gli ufficiari diventano importanti e il cavalierato l'idea del cavaliere diventa importante da quel momento lì in poi tutto il concetto di nobiltà di cui si parla tanto oggi anche andando a vedere tante serie tv ma da quelle fantastiche il trono di spade a quelle tipo d'Antonebbi un po' più invece romantiche dove si parla di conti duchi marchesi beh tutta questa questa idea della nobiltà alla fine nasce a partire dagli eventi della corte imperiale di Carlo Magno marchesi è una parola che non esisteva prima non era un atto nobiliare che esisteva nasce quando Carlo Magno costruisce cioè gli venimenti di ideare dei stati cuscinetto intorno al suo regno che chiama marche manda dei funzionari dei missi a governare queste marche sotto il duca di riferimento e poi pian pianino nel corso del tempo queste marche cominciano a avere sempre più importanza questi funzionari diventano sempre più importanti per il ruolo che hanno di difesa dei confini e io ho trovato proprio che negli scritti dell'epoca negli annali si cominciano a chiamare i marchesi e lo stesso Carlo Magno a un certo punto chiede ma chi sono questi marchesi perché anche lui non aveva ben presente chi fossero e gli viene detto no è un modo che abbiamo per definire questi tuoi funzionari che governano le marche nasce il marchese da lì poi acquisisce un suo ruolo all'interno del patriarcato della nobiltà comincia ad avere un ruolo e entra nell'organigramma della nobiltà per cui ci sono i marchesi i conti i duchi e via dicendo ecco insomma davvero qualsiasi aspetto andiamo a toccare l'introduzione della moneta l'idea di una lingua più compatta insomma qualsiasi aspetto noi andiamo a toccare lì è il momento d'inizio importante che dà vita poi a quella che è la civiltà europea che conosciamo noi oggi quindi bisogna andare a comprare il romanzo me lo auguro perché è un romanzo ma è un romanzo storico non è un romanzo di fantasia quindi assolutamente no no di fantasia non c'è nulla quindi io non posso fare altro che ricordarne il titolo che è Carolus il romanzo di Carlo Magno appena pubblicato da Mondadori come diceva l'autore poco fa sono 732 pagine per soli 25 euro quindi anche dal punto di vista della spesa assolutamente accessibile e io ringrazio tantissimo l'autore di aver accettato il nostro invito e di aver presentato questo volume a voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro sito e sul nostro canale youtube e arrivederci alla prossima videopresentazione grazie Franco grazie ciao grazie a te ciao a tutti grazie a l'entrata del Tempsklar per gioiare e cominciare e per gelo si irritare e la regina mostrare che le sia amorosa alla via alla via c'è la seno la seno la la l'entreno temseno bella fight per tot mandar e la non si aggiusca all'amor